Uno complicato per l'economia, per il mondo del lavoro marchigiano. La segretaria regionale della Willa, Claudia Mazzucchelli, traccia il quadro di un periodo che si preannuncia difficile. Anche perché le misure per combattere l'inflazione varate dal governo, dice il sindacato, sono insufficienti. In media valgono 15 euro l'orde al mese. Guido Maurino. È un lavoro sempre più precario quello delle marche. Nei primi tre mesi dell'anno solo i contratti in somministrazione sono aumentati di oltre il 20% dopo il più 26% dello scorso anno. Ed è anche un lavoro sempre più insicuro, con una crescita degli infortuni del 27% nei primi sei mesi e cinque morti solo nel mese di giugno. I dati elaborati dalla Will Marche fotografano una regione che va incontro a un periodo difficile e dove l'inflazione rischia di creare forti problematiche. Ci preoccupa moltissimo, anche perché noi abbiamo un'inflazione che è quasi all'8%, al 7,9 mese di luglio. Abbiamo però un aumento dei prezzi per i beni di prima necessità e penso agli alimentari piuttosto che alla cura della persona che è oltre il 9. Quindi un impatto importante nelle tasche dei cittadini marchigiani. Insufficienti anche le misure del governo sul taglio del cuneo fiscale per i lavoratori sotto i 35.000 euro e l'anticipo sulla rivalutazione delle pensioni. Se noi prendiamo un reddito medio del lavoratore dipendente intorno ai 20.000 euro, parliamo di 15 euro l'orde al mese. Ecco perché il sindacato prevede per i prossimi mesi molti fattori di incertezza. Per le Marche sarà un autunno complicato perché ci troviamo ad affrontare chiaramente gli esiti ancora della pandemia, della guerra. Abbiamo ancora una parte del territorio marchigiano da ricostruire in termini fisici, sociali ed economici perché penso a tutta la zona del sisma e poi dobbiamo far ripartire l'economia di questo paese, di questa regione. A livello regionale la UIL analizza anche la questione sanitaria dopo la riorganizzazione varata nelle ultime settimane dalla Giunta. Innanzitutto noi avremmo preferito che si fosse partito dal piano sociosanitario e poi da lì andare a vedere se il modello organizzativo era efficace oppure no perché il problema sono i cittadini. Noi tutti i giorni leggiamo sui giornali e comunque impattiamo con i problemi delle persone e del personale che manca, pronto soccorsi che esplodono, impossibilità di fare visite ambulatoriali piuttosto che diagnostiche. Quindi problemi importanti che avrebbero richiesto un confronto che non c'è stato con la Regione.